pubblicità degli anni 90 della coca cola light nello specifico però insomma l'associamo facilmente a questo brano che abbiamo appena ascoltato nella versione di etta james e al telefono abbiamo la nostra nuova ospite barbara della libreria il giardino in car incartato di roma buongiorno barbara buongiorno a voi intanto uno dei premi per i miglior nomi di libreria di sempre credo che è veramente meraviglioso e raccontami un po di questa vostra libreria tua non so se hai dei soci se l'hai aperta da sola parlami sì siamo in due o meglio io e cecilia siamo le socie ma assieme a noi lavorano altre due libraie alessandra e poi anche quelle che si occupa di tutto l'apparato grafico della nostra libreria inclusa la signora coccinella che nel nostro luogo e carla carla colussi che è una esperta contastoria e libraia quando abbiamo bisogno di un sostegno in libreria ok e quando è nata il giardino incartato nel 2011 e 11 quindi ormai dieci anni fa eravamo in cerca di dar corpo a delle idee un entusiasmo un po un po all'inizio difficile i primi passi e in realtà poi il quartiere in cui la libreria si radica che il pigneto a roma ci ha risposto con grandissimo entusiasmo per cui devo dire che è veramente bello lavorare in libreria qui da noi al giardino incartato siete una libreria soprattutto immagino per bambini e ragazzi siamo una libreria per bambini e ragazzi ma quest'anno l'anno scorso abbiamo aperto un nuovo spazio in cui trova anche un po di posto la letteratura per gli adulti in modo che gli adulti che entrano accompagnando i bambini possano trovare anche qualcosa per loro sebbene peschino sempre nello scaffale per l'infanzia sappiamo che gli albi illustrati fanno hanno veramente grande successo anche dagli adulti giustamente perché insomma non hanno età secondo me ci sono delle cose talmente belle che non si possono definire solo per bambini e quali sono le vostre cinque scelte? Allora noi abbiamo pensato di raccontarvi i cinque libri che hanno avuto più successo lo scorso anno da noi in libreria sicuramente inizierei con un romanzo che di Davide Morosinotto che si chiama La più grande è una storia straordinaria un'avventura con un po di magia con protagonista una piratessa nella Cina del 1700 poi c'è stato un fumetto Daisy di Lorenza Di Sepio e Marco Barretta edito da Tunue che abbiamo presentato nel corso del nostro festival perché noi organizziamo a settembre un festival che si chiama Ucci Ucci se ti trovo ti leggo e da allora da quando i bambini l'hanno scoperto in quell'occasione e ha avuto un successo straordinario tra di loro. Poi una prima lettura destinata quindi a bambini che incominciano ad approcciarsi col libro e che cercano qualcosa da leggere che abbia già la forma del libro per più grandi ma un po' traccia dell'albo illustrato che hanno amato fino a pochi pochi istanti prima Lupo Grigio è diventato blu uno spassosissimo libro di Ronan Badel edito da Harper e Collins poi c'è stato quando arrivi il Natale che è un libro che io ho scritto assieme a Serena Amabilia edito da Lupo Guido e che ha avuto un riscontro davvero gratificante è stato bellissimo e una storia di realismo che del Natale ha solo l'atmosfera e in realtà perché è una storia di grande amicizia d'avventura. Poi c'è Manco per sogno di Beatrice Alemagna che è un albo invece con protagonista una pipistrella una pipistrella 3N direi molto briosa dal carattere argente o friccicarello si direbbe a Roma che Manco per sogno vuole andare a scuola ecco. Ok ok molto belli molto carini tra l'altro mi fanno notare giustamente che siamo molto vicini di casa perché noi siamo in zona pre-neste largo pre-neste quindi in realtà siamo molto vicini è vero vi verremo a trovare spesso ci capita appunto di parlare con librerie di tutta Italia e avere questa voglia di andare invece voi che state qua vicino verremo sicuramente una gita certo grazie mille Barbara la canzone che hai scelto mi ha reso molto felice intanto perché è una delle mie canzoni preferite di sempre e proprio la adoro e poi perché appunto tu giustamente l'hai scelta per un motivo anche bello e commovente qual è questa canzone qual è il motivo è un omaggio a roni delle ronette che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa il 12 gennaio si poco tempo sì sì la canzone be my baby l'abbiamo scelta anche per il brio e il tono il tono avvolgente ecco grazie mille Barbara il giardino intercato di Roma zona pigneto e a presto allora a presto che pezzo incredibile è questo cioè veramente io ogni volta ballo come una pazza tra l'altro mi ricorda anche uno dei miei film preferiti di sempre che è dirty dancing quindi barbara mi ha fatto molto felice con questa scelta e abbiamo al telefono buongiorno piero della libreria la stanza di carta ci spostiamo da roma andiamo a palermo buongiorno piero buongiorno intanto grazie per aver anche accettato questo questo invito e raccontaci un po la storia della stanza di carta portaci dentro la tua libreria sì allora la libreria è molto particolare perché intanto si trova dentro il campanile di una chiesa che bello è una chiesa del barocca nel 1600 però il campanile dove mi trovo io è una base medievale perché il campanile viene costruito più su nel 1600 è una libreria tra le più piccole del mondo perché lo spazio calpestabile solo 19 metri quadri però è ricca di fascino perché appunto è dentro un campanile e quindi si sviluppa in altezza dove c'è un'altezza doppia rispetto a una mezzatura base sto guardando qualche foto che si trova online praticamente è come stare dentro una sì mi viene in mente l'immagine non so perché della della bella e la bestia il film quando lei si trova il film a cartoni d'animazione quando lei si trova davanti a queste librerie altissime è perché la sensazione appunto è proprio di incombenza dall'alto dei libri e quando è nata questa libreria questa libreria è in realtà a giugno del 2019 ok quindi da poco due anni e mezzo fa sì però la sua storia inizia intorno al 1920 quindi era una libreria storica però io dico era anche senza storia perché vendevano solo libri scolastici e universitari e così lo fu fino al 1999 dopodiché è stata chiusa per 20 anni e poi l'ho aperta io due anni e mezzo fa ma io ho fatto una libreria totalmente differente sia a quello che è la prima ma credo anche rispetto alla libreria italiana di oggi perché la prevalenza dei libri è di modernariato possiedi stampati entro i cento anni anche se poi c'è un po' di antiquariato ma questi libri in grande parte in maggioranza sono libri ancora che non sono stati messaggiati e quindi sono nuovi ok poi ho inserito anche alcuni editori contemporanei quindi ho fatto dei cover come editori di eri bale di archinto di severio di olti insomma pochi editori di buona fattura certo e ho collegato tutto con diverse forme d'arte e per cui ci stanno dipinti incisioni fotografie d'autore ceramiche miniature ok una specie di wunderkammer una specie di wunderkammer una wunderkammer contemporanea certo e c'è qualche ascoltatore che ci scrive che sembra anche un po' la stanza di silente di harry potter non so se hai presente il riferimento sì ci sono alcune nicchie in questa libreria tra cui una è socchiusa da uno scaffale che io lascio socchiuso uno scaffale in alto nella parte alta della struttura per cui può seminare anche la biblioteca del nome della rosa certo certo e a questo punto sono molto curiosa della tua top 5 delle tue cinque scelte che cosa ci proponi allora i libri che vi propongo sono un libro pubblicato da Sellerio che è Una settimana in giallo è una raccolta di diversi autori della scuderia Sellerio quindi autori fidati autori importanti direi e poi ancora un libro di Della Pizzorno Piante di via Romolo Gessi edito da Harry Bale ok un libro di Locatelli Alessandro Locatelli che si chiama Piove pubblicato da Il Palindromo e poi ancora un volume di Giosuè Calaciura Io sono Gesù edito da Sellerio un grande libro ok e poi cosa vi posso consigliare anche il libro di Bufalino che si chiama Palermo ok edito da Harry Bale è una chicca che lui aveva scritto per il touring degli anni 80 ok senti Piero che tipo di persone cioè chi frequenta la tua libreria hai dei diciamo fidelizzati immagino di sì sì c'è un 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 target di 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 ragazzi c'è la prevalenza di dei frequentatori di questa libreria si tratta di ragazzi sotto i 35 anni è un'incidenza molto alta ma che meraviglia che bella cosa infatti è una cosa fino ad arrivare ai 12 anni chiaramente sono pochi quelli i 12 anni però è tutta una generazione di lettori che sono molto affascinati da questo posto perché scoprono libri editori titoli che non avevano mai visto prima o quantomeno nelle sue edizioni originali per alcuni classici contemporanei e questa è una cosa che fa ben sperare certo tra l'altro in questo caso proprio in una libreria come la tua la figura del libraio è fondamentale proprio per dare anche cioè è vero che è bello curiosare immagino sia molto bello curiosare però anche avere qualcuno che ti guida e che magari ti dà qualche qualche consiglio sul mare magnum di libri che hai sarà molto importante credo eh sì e concludere anche che io sono un libraio di lungo corso quindi non sono lato bene mezzo fa ok e beh immagino sì 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 e quindi tanti ragazzi tanti giovani tanti ragazzi sì e non solo italiani perché la libreria si trova proprio nel centro storico della città ok proprio al centro della città e poi a questo fascino di questa struttura dentro in questa libreria dentro un campanile e quindi è meta di tanti turisti stranieri e tu hai anche libri in altre lingue o solo in italiano sì soprattutto in inglese e in francese ok ma dove li prendi questa è una curiosità perché giustamente tu hai detto alcuni non sono mai neanche stati cioè non sono li ho recuperati attraverso biblioteche di privati di persone che hanno comprato i libri che hanno messo in discassale e non li hanno mai letti ok ok beh interessante insomma anche e tu continui ovviamente tuttora in quest'opera di raccolta immagino e qualcuno te li porta anche immagino certo qualcuno mi aveva anche regalato qualche libro perché questa libreria è particolare però certamente molte li ho acquistati acquistati certo grazie mille Piero di averci portato in questo posto veramente incredibile che sono molto curiosa di vedere dal vivo spero insomma di avere la possibilità il prima possibile e la tua scelta musicale è anche questa diciamo molto evocativa perché si tratta di Deep in a Dream di Chad Baker come mai l'hai scelta? sì come mai l'hai scelta? perché amo tutta la musica ovviamente il jazz in maniera più forte e Chad Baker secondo me è stato uno dei musicisti più grandi nell'ambito del jazz ok c'è la musica nella tua libreria? cioè la tieni? ok è una colonna sonora continua ok grazie mille Piero la stanza di carta di Palermo a presto allora ciao grazie ciao grazie